Via freddo, Leonardo, percorso Alfa L1 nel 2024 World Park Survival. Vai, non ti faccio neanche la domanda, dimmi un po' tu. Lui era il festeggiato di questo corso. Sì, diciamo un festeggiamento particolare. Devo dire che è stato oltre le aspettative. Il corso è stato molto realistico, ci ha permesso di sperimentare delle situazioni reali, delle situazioni d'urgenza. Allo stesso tempo c'era un bilanciamento con una parte didattica che ha permesso quantomeno di apprendere le tecniche che sono molto interessanti e molto utili laddove dovessero esserci delle condizioni. Quindi insomma consiglieresti il corso un po' a tutti. Assolutamente, devo dire anche lato istruttori, preparazione di primo livello e anche da un punto di vista di spiegazione mi è piaciuto molto. Quindi si riusciva a capire il perché di determinate tecniche al di là della tecnica stessa. Ok, anche per te, in una parola, in una frase, cosa ti porti a casa? Cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto perché quando si fanno questo tipo di esperienze si apprezza sempre magari i beni che normalmente diamo per scontati. quindi è un po' oltre al fatto ovviamente di essere un pochino di più nella natura di quanto non facciamo nella vita quotidiana. Ti ringrazio. Grazie a voi.